Nuove povertà, secondo la Caritas il numero di persone che chiedono aiuto è cresciuto in un anno del 20% ed è nata per rispondere a questi crescenti bisogni la mensa popolare aperta in due circoli arci di Torino. Se ne parlerà domani nel nostro settimanale in onda le 12.25 un'anticipazione del servizio di Stefano Tallia. Le loro storie le hanno raccontate tutte qui in quello che hanno chiamato il diario del Capitano. Sono storie di povertà ma anche di riscatto e di voglia di uscire da quel vortice nel quale si può scivolare all'improvviso senza neppure rendersene conto. Sono le parole delle cento e più persone che da dicembre ogni giorno varcano i cancelli del circolarci Anacazzoppa che mette loro a disposizione un pasto caldo, qualche ora di pace, ma anche la possibilità di contrastare quella solitudine che spesso accompagna le difficoltà economiche. La città sta vivendo una crisi molto delicata, la povertà è un fattore di rischio per la violenza, per la salute mentale e noi abbiamo deciso di contribuire per quanto possiamo alla riuscita di un progetto che favorisca l'integrazione nella maniera che riteniamo più opportuna. Evidentemente questa crisi che ha impoverito molte famiglie, molte persone, ha anche creato bisogni che fino a ieri non erano presenti. Rispondere all'emergenza significa anche offrire opportunità alle persone a allontanare la solitudine e in questo la cultura e la socialità possono fare davvero molto. 15 anni fa quando il comune ci ha dato questo posto, non ce l'ha dato per vendere birre o per essere agevolati a fare altre cose, ce l'ha dato perché noi ci facessimo carico anche di alcuni problemi del quartiere. Nella distanza di 15 anni abbiamo dimostrato che intanto la parola la manteniamo.